bentornati ovetti nel nuovo episodio dream tv ness in compagnia di mr dream e mr frank dove siamo arrivati qui bene finalmente potremo picchiare dei romani mi stavo annoiando siamo quasi al prossimo livello e qua c'è un cestino prenderò lo devo prendere io ho solo due cuori andiamo a cambiamo qua il menhir si può cambiare dico di potenza di colore rosso e fuoco con il romano facciamo sono troppo stanco occhio che qua mazzate da ciecati mazzate da ciecati qua mister frank allora dobbiamo andare non ti puoi mettere paura questo massacralo ok dobbiamo resistere contro l'assedio dei romani noi siamo i galdi vai the fix attacca guarda come attacca i romani ok che è morto le occhio a questo qua aia vai asterix come addio hai tutte le stesse tutti i cuori addio gli arcidi sono pure un po infami ecco qua bravo una bella lezione fai un altro uppercut fai un altro hai morto questo qua viene addosso a me che fa male questo ok non ho abbastanza energia per questo ok che anche questo ha eliminato gli arcidi sono molto cattivi attenzione che c'è un bel po qua occhio tu dove sei ma tu non puoi usare niente astrix mette paura io c'è stato quello che con la palla di ferro che la palla ferrata fa male bam dai aia sono morto 8 secondi 7 6 5 tu hai la bellezza 24 5 cuori e mezzo vado come scappa eccomi non ho abbastanza energia per questo doppio uppercut bravo ok bambam dai combatti ok è andato via ma ancora l'assedio continua ma andiamo avanti va il cagnetto dov'è? idefix sta venendo eccolo dove dove devo andare? qua come dai? adesso rimangere a mezzo si ma tu c'hai 4 cuore e mezzo io 2 4 6 ecco gli altri è morto subito abbiamo l'abbiamo polverizzato no ma che fa quello? è un bug ok dove è andato? ma non puoi farlo dai stia che è troppo buono qua si deve liberare ma era quasi se vuoi usare mortica non ce l'ho io non lo puoi fare tu no ma adesso lei tu li trovi ah ecco qua l'altra ondata sono molto la giusta faremo un po' di magia chi è quello? ah questo è il centurione vieni qua ok adesso è uscito la missione si un po' dopo arrivano 5-6 romani e ti metti paura guarda questo sto beccando questo vai colpisci questo ok andiamo di qua di qua dritto ok qua è chiuso ecco che è preso trova e lascia passare dai lascia passare al romano ok devo andare giù si andiamo giù 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 devo lasciare passare al romano allora no povero cagnolino dov'è? vieni vieni ah qua c'è sempre questa bam questa è una delle mosse di obelix che ghiaccia tutto però qua dobbiamo dobbiamo combattere fra addio perché ti metti paura vai vieni di qua guarda qua ok vai vai ok ok vai colpisci tu va ok senza scudo vai fai il gancio ok centurione centurione come hai fatto a salire? sono salito in quella porta ah ok tanto loro non possono salire andiamo no dico loro loro i romani qua c'è la pozione fra sali prendila qua sali qua prendi la pozione ok hai preso la pozione male cerca di prendere pure questo scusami attacca qua bravissimo non erano ma adesso no vai vai entra ah è bello questa cosa ci dobbiamo buttare giù buttiamoci così ci divertiamo pure per i ragazzi via adesso ci divertiamo adesso c'è da ridere adesso li attraggo tutti vai adesso ti diverti tu è già finito l'effetto però eh eh dove stai andando? mi calco sotto ci dice ti resi o ti ria ti resi o ti ria perché siamo perché siamo perché c'ha tutti i romani contro non possiamo andare in quella direzione ok ok no sono andato giù rompi con la apriamo sta leva ok e qua siamo quasi arrivati eh siamo qua al molo vedi questa che è? mangiare vediamo un po' chi è questa ah sai che questo è quello là c'è una missione extra te la ricordi questa? qua sono caduto giù lol aspetta no aspetta qua mi ricordo la mossa qual'era quella mossa che usavi tu per quella che prendeva Obelix e scaraventava i romani siamo ancora nell'acqua sono troppo stanco sono troppo stanco adesso non mi ricordo bam bam ma non è caduto giù praticamente ma lo so eh io non so facciamo così saltiamo questa missione qua se no ma nulla la missione perché devo capire un po' no non muori missione fallita perché se no va bene è troppo lunga premi premi ok dai lascia passare al romano allora di qua seguimi questo non potete passare premia salta davvero dovete ecco qua gli ho dato chi ci mi ha chiamato grosso vai ok adesso giù devo farmi imbracciare vediamo un po' cosa c'è qua vediamo che c'è qua vai entra spacchiamo un po' di roba ok andiamo giù buttati ok adesso è aperta la porta viene ok andiamo a livello successivo aspetta cambiamo il colore almenir dimmi qua è chiusa ira funestum entra premia ok siamo andati in gioco salva automaticamente salva automaticamente i tuoi dati ira funestum no avanti siamo andati qua non siamo mai stati vedi sembra uguale ma non è sembra tutta magia eh a chi perché no era funestum ma non l'abbiamo mai fatto dai che lo facciamo subito sto livello ok adesso siamo carichi tu hai la pozione magica e c'ho il non ce l'hai ma spacchiamo gli accampamenti adesso stiamo andando avanti c'è il cestino là vuoi prendere tu prendilo ok vieni dobbiamo andare di qua poi bisogna rompere gli accampamenti visto come attacca i defix ce l'ho ce l'ho ma va ok qua bisogna usare la magia ok aspetta vieni qua che dobbiamo ammazzare quelli che chiamano i romani aspetta dov'è questo ok bravissimo vieni qua ghiacciato giù dove si va di qua vieni giù ok andiamo di qua voglio fare una cosa ma mi senti mi ho fatto che hai preso che mi stanno colpendo a me ok vai il colino è sceso giù vieni qua c'è una cosa segreta qua adesso l'apriamo aspetta eh non è il momento di sbattare lol ok vieni qua ho aperto un barco qua vai dentro bravo ma fai c'è un altro c'è un altro fra torna dentro torna dentro l'altra parte non lo so quello era un dado si la pozione magica bravo l'hai presa aspetta c'è un accampamento qua vieni qua non vedo niente guarda qua che faccio che faccio morti tutti? morto c'è un altro accampamento vieni qua fra sono troppo sono troppo adesso sono tutto bagnato ok non è il momento di sguazzare siamo ancora nell'acqua? quando è buttata siamo nell'acqua però? non è il vento su ecco conviene ghiacciare così tu blocchi i nemici guarda lo butto di qua vieni di qua francese non la consumare niente qua siamo sulla spiaggia vedi? adesso sono tutto bagnato però hanno sbagliato che ti butti in acqua e si blocca ma come le vai a prendere? adesso sono tutto bagnato vieni di qua che mi fa tornare a me indietro qua che c'è qualcosa no andiamo vieni Duma di qua di qua no nell'acqua come? siamo ancora nell'acqua dai vieni comunque di qua ok e qua ok abbiamo finito pure di qua di qua io non l'ho fatto perché ho paura cestino hai preso tu? aspetta qua e lo so mi stanno colpendo dall'alto preso il problema sai qual è? no il ghiaccio ti dico io questo per rompere le ok ok dobbiamo imparare ad essere più veloci a cambiare il manier per rompere le torrette non ci vuole il ghiaccio questo ci vuole aspetta questo aia stanno colpendo dall'alto vieni qua ok di qua di qua vieni su mia ok vieni adesso vieni giù vieni qua dove stai andando adesso sono tutto bagnato dai vieni sei cretino sì pozione magica adesso ne hai due mi sa che il massimo è quattro non cadere non è il momento di cadere giù vieni non è una pozione magica ho visto è un elmo è un elmo aiutami voglio me è un elmo vai vieni vieni qua no non servono niente sti cosi ok aspetta che c'è ok andiamo giù che abbiamo visto qualcosa giù giù corri 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 ok qua se vai dritto non cadi giù mettiti contro il muro e cammina contro il muro come topi ok i topi così fanno e poi saliamo qua spacchiamo prima questo accampamento quindi dammi una mano qua ma aspetta se la faccio vieni qua sì 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 vieni qua però che non vedo la storia ah è un accampamento questo eh c'è c'è lo ghiaccio non vedi che è blu ok c'è una leva ma se la prendo io vatti non lo sai e qua devo capire come devo fare e viene a combattere cioè attacca il cane più forte di ti il cane il cane più forte di ti ma io sono più forte del cane sono più ah hai visto ma vai lo scudo al lato più in alto guarda che faccia adesso scendi giù maledetto ok ok e le torrette qua bisogna usare vieni qua usala usala usa la pozione magica usa la pozione sono troppo ma non mi attacca i defix fortissimo eh però qua ok prossimi recupero tre cuori usa la pozione magica non scappare non tornare indietro ma come fai a cacarti sotto dai sono molto troppo scappare vieni qua vieni qua usa la pozione nei due usa le pozioni magiche usale ti farò morire prima o poi perché io combatto tu no perché non usi la pozione ma qua qua si serve tu per buttare eh aspetta sono troppo stanco ok ok così mi recupero un po' di vita vai usa la pozione magica vai vai usare la pozione magica ah bravissima qua vieni qua di qua devi venire a usarla sono troppo stanco no basta il centurione è morto il centurione l'ha seccato il cane cioè pensa a te un altro devi ammazzare non andare vai giù bravo vai veramente addio come sei sono venuto la pesta un po' di scazzottate spacca quelle quelle casse c'è qualcosa da dentro ok eh mi hanno colpito ancora ok di qua aspetta devo rubare questo aspetta devo capire un po' le mosse ancora ad oggi non ho capito niente ecco è morto ok adesso andiamo di qua ma tu hai tre cuori no io guardo quanti ne ho va bene dai sì perché sei l'energia massima ma se c'è il romano qua no ti viene attaccato vieni che li caccio dai non è che è scemo è caduto giù vieni e qua su vai combatti adesso fai i grapple cut il cancio che dai tu aspetta stanno qua è morto ma sono soldi dai è qua c'è la leva vedi ok andiamo a livello successivo hai visto finito domani battuti di 77 asterix 31 ho vinto devi pagare ok abbiamo superato un altro livello hai visto sta caricando adesso ecco la fine del blocco torna da grandi mais ok e qua la catena non blocca più il porto la catena di grandi mais può partire una catena per impedire il passaggio delle barche chissà dove prendono queste idee eh asterix un attimo va bene cominciato è qua aspetta dovevo andare no non chiamare dove vai no no vai giù ah c'è la no no era al massimo di qua la tua energia vabbè dai ok di qua ecco grandi mais grandi mais sarai felice abbiamo riaperto il porto ottime notizie puoi portarci a creta quindi dovrò chiudere il mio negozio per un nuovo viaggio a scrocco o omaggio non preoccuparti grandi mais faremo in fretta potrai tornare presto a tiro ma allora non perdiamo tempo il tempo è denaro e come scrisse il poeta fu così che asterix obelix e idefix ripresero il mare per una traversata gratuita e sicura durante la quale non subirono forti venti né tempeste fino alla meravigliosa isola di Creta ah siamo a Creta vedi in Grecia siamo in Grecia a Creta benvenuti a Creta guarda che bella ok guarda obelix ci sono legioni romane anche qui evviva evviva posso andarle a salutare asterix no obelix non questa volta dobbiamo essere discreti speriamo che non vedano grandi mais e la sua barca è un peccato sembravano nuovi di zecca con i loro graziosi scudi non fare il broncio obelix non lasciare che i romani ti individuino non dobbiamo farci vedere dei romani vediamo che dice non dobbiamo farci vedere ah è bello questo livello no da nessuno sennò perdi la missione vieni qua fra vai ok aspetta si dice cretisi o cretini cretini preferirei che non dicessi ahhh va bene adesso salviamo grazie a tutti per essere venuti e questo è il livello principale see you next time